No, io dico semplicemente questo, che strumentalizzare i minori o i bambini e fare del basso sentimentalismo sulla pelle dei minori credo che sia quantomeno disdicevole. Allora, diciamolo in maniera chiara. Oggi i minori stranieri presenti nel nostro paese hanno giustamente e in modo sacrosanto esattamente gli stessi diritti dei minori italiani. Al minore straniero non viene negato nulla, dal trasporto, all'istruzione, alla sanità, come giusto che sia. Cosa non hanno? Non hanno il diritto di voto, perché questo concede la cittadinanza. La cittadinanza, che tra l'altro non è negata. Ci sono ragazzi stranieri di 16 anni che sono in Italia da 10 anni, che potrebbero essere naturalizzati e quindi diventare cittadini italiani e votare a 18 anni, che non hanno mai chiesto la cittadinanza. La cittadinanza è una cosa seria, perché attribuisce un diritto civile fondamentale, basilare di uno Stato di diritto, che è il diritto di voto. E il diritto di voto si attribuisce a 18 anni. Noi cosa diciamo? Che la cittadinanza non può essere regalata o concessa per volontà divina o per decreto da parte del Presidente della Repubblica. La cittadinanza, proprio perché ti dà un diritto civile fondamentale, deve essere richiesta. Però Molteni, scusi! Ci deve essere un atto di volontà da parte dello straniero per poterla chiedere.